Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è venerdì 22 luglio 2022 e sono le 7 del mattino, la prima edizione della rassegna stampa, poi altre ne seguiranno nel corso della giornata. Vediamo subito l'almanacco, oggi si festeggia come santo del giorno, una santa molto molto nota, è Santa Maria Maddalena. Perché si chiama Maria Maddalena? Il nome ovviamente era quello di Maria, un nome molto molto comune nella Palestina in quei tempi. Si chiama Maddalena perché era originaria di Magdala, una località della Palestina sulla costa occidentale del lago di Tiberiade. Peccò molto durante la sua giovinezza, ma Gesù, lo dice poi l'Evangelo, liberandola da sette demoni, la fece diventare sua discepola. Da allora condusse una vita santa, assistente alla morte di Gesù sotto la croce, poi fu imprigionata, fu esiliata, fu mandata con una nave nel Mediterraneo, la nave poi dopo diverse traversie approdò a Marsiglia e qui Maria Maddalena visse gli ultimi anni della sua vita e morì. Esiste una chiesa a Marsiglia che conserva ancora le sue spoglie. Veniamo alle previsioni del tempo, che dirvi di nuovo, nulla di nuovo, perché la giornata si mantiene ampiamente solleggiata su tutte le marche, vedete la grafica, sole su tutta la regione. Un caldo intenso, le massime sono intorno ai 38-39 gradi, clima affoso sulla costa, c'è molta umidità, specialmente nelle ore che si avvicinano a quelle serali. I venti sono con una tensione media sulle coste, espirano da est e sud-est, da est invece sull'interno. Il mare è poco mosso. Ed ora diamo un'occhiata alle prime pagine dei giornali. Vediamo subito il Corriere Adriatico e vediamo come le elezioni parlamentari hanno i loro riflessi anche nelle nostre regioni. Ebbene anche le marche si preparano all'appuntamento elettorale di settembre. Si vota la corsa prevista ai seggi. Alle urne il 25 di settembre per il rinnovo delle camere. Almeno metà degli assessori regionali vuole provarci. Acquaroli cerca di arginare la fuga da Palazzo Raffaello. Insomma, molti vogliono andare via e quindi lasciano dei vuoti a livello regionale. Le marche scenderanno da 24 a 15 parlamentari, ma questa è una riduzione del numero dei parlamentari che coinvolge tutte le regioni d'Italia. La fotonotizia sul Corriere Adriatico è dedicata a un uomo che ha fatto molto per quanto riguarda la sanità pesarese. Si tratta del dottor Gnudi che è stato premiato dal sindaco di Pesaro ieri. Per quanto riguarda fatto, è stato premiato con la sua squadra. Ma qui vediamo oltre al sindaco Matteo Ricci. In questa fotografia vediamo anche il presidente della provincia, Giuseppe Paolini, l'ex dirigente del pronto soccorso, simbolo della lotta al Covid. È stato appunto riassunto come un esempio per tutti coloro che hanno lottato contro la pandemia. Vediamo le notizie a centropagina, quelle che vengono riassunte, quelle che emergono. A Pesaro la maturità da Lamplein in sei istituti su sette, il cento per cento sono stati promossi. Solo uno ha raggiunto una percentuale lievemente inferiore. Pesaro dà anche l'addio a Secchiaroli che ha rivoluzionato il settore del sociale. A San Costanzo invece un episodio di cronaca. Rogo tra gli olivi della tenuta agricola, distrutto un bosco. Pesaro evidenzia anche il problema del mercato delle erbe. Gli ambulanti nel limbo si trovano così assegnato un contratto molto molto limitato della durata di un anno e quindi non hanno prospettive per quanto riguarda il futuro. Mentre per quanto riguarda l'impatto ambientale vediamo che le bandiere arancioni sono a quota 24. Siamo terzi, una buona posizione a livello nazionale. Ed ecco apriamo il giornale per quanto riguarda le elezioni che si profilano nel mese di settembre. La diaspora della giunta sulla via del Parlamento. Acquaroli tenta lo stop, tenta di frenare questo fuggi-fuggi verso Roma. E chi sono i papabili? Almeno coloro che tentano questa nuova avventura. Le quotazioni degli assessori. Il Corriere Adriatico considera in aumento le quote di Guido Castelli e di Mirko Carloni. Sono stabili invece le quote di Giorgia Latini e di Filippo Saltamartini, l'assessore alla sanità. Sembrerebbero in ribasso invece quelle di Francesco Baldelli e di Stefano Aguzzi, ma anche loro sono dei possibili papabili. Da 24 a 15 e cala il numero dei rappresentanti della Regioni. In Parlamento le marche sono ridotte veramente al lumicino. Ne avevano pochi prima. Ne avranno ancora di meno per la prossima legislatura. E' questo a causa del maxitalio dei seggi. Dieci deputati e cinque senatori tra collegi uninominali e plurinominali. Nella Camera dei Deputati. Questa è un po' la suddivisione per quanto riguarda le circoscrizioni elettorali della nostra Regione. Sono inserite in una unica circoscrizione elettorale che comprende le province di Pesaro, Urbino, Ancona, Macerata, Fermo ed Ascoli. Le Marche. Le Marche che eleggeranno, come ho detto, dieci deputati divisi tra collegi uninominali e plurinominali. Quattro deputati saranno eletti in altrettanti collegi uninominali impostati su circa 400.000 abitanti, qualcuno di più, altri meno. E sono formati questi collegi dalle province di Ascoli e Fermo, che sono accorpate tra di loro. Poi abbiamo quella di Macerata con la giunta dei comuni anconetani di Castelfidardo, Loreto, Sirolo, Inumana e la provincia di Ancona e da quella di Pesaro, Urbino. Poi altri sei deputati saranno eletti con il metodo proporzionale. Sono molto complessa questa vicenda. Altri sei deputati saranno eletti con il metodo proporzionale in un unico collegio plurinominale rappresentato da tutta la Regione Marche. i senatori marchigiani saranno complessivamente cinque, solo cinque, rispetto agli otto che finora hanno occupato i banchi di Palazzo Madama. Erano pochi prima, otto ora ancora con cinque, sono ancora di meno. Due saranno eletti in altrettanti collegi uninominali, uno formato dalla provincia di Pesaro, Ancona, l'altro invece da Macerata, Fermo e Ascoli. Mentre i rimanenti tre, tre senatori, saranno eletti con il sistema proporzionale in un unico collegio plurinominale che concide con tutto il territorio della Regione. Insomma una suddivisione molto parcellizzata, molto così complessa di cui non si capirebbe, non si capirà anzi l'esito fino alla fine come andrà a finire e chi sarà eletto. Ed ora vediamo la pagina di Fano. L'apertura è dedicata ad una vicenda che si è consumata in alcune ore nella giornata di ieri. Ebbene, Slavina in Comune, intitola il giornale, Celani si dimette. Chi è Celani? Pietro Celani, capo gabinetto, uno dei dirigenti più rappresentativi delle Comune. La sua è stata la disavventura di essere colto in una cena insieme ad esponenti della maggioranza e della opposizione, ovvero c'erano gli esponenti del Movimento 5 Stelle, c'era anche l'assessore Samuele Mascarin. Di cosa si parlava? Beh, l'argomento è facile a immaginarsi, è l'argomento che impera in questi giorni in Comune. Ebbene, dopo tutte le polemiche che sono montate per la partecipazione di questo dirigente a questa cena, Celani ieri ha preso la sua decisione. Mi dimetto, ha detto, mi dimetto per questioni di trasparenza. Non voglio che tutte le polemiche negative che sono sorte in questi giorni si riflettano sull'amministrazione comunale. Si è interrotto dunque il rapporto fiduciario tra il sindaco Massimo Seri e il capo del suo ufficio, Pietro Celani. Una separazione consensuale. Infatti è stata resa nota in questi termini ieri con un comunicato stampa. Lo sviluppo ha colto di sorpresa diversi tra gli assessori fanesi, anche se è stato preannunciato dalle polemiche antecedenti. L'abbiamo visto anche nei giorni scorsi sui giornali. Celani però conserva la sua funzione tecnica e come dirigente comunale manterrà tutte le competenze, compresa la discussa procedura riguardante la manifestazione di interesse per il biodigestore. Poche ore dopo l'annuncio, il segretario del PD, Tommaso Della Dora, ha espresso tutto il suo dispiacere per quanto è avvenuto. E dobbiamo dire che all'interno della maggioranza già spaccata per altre divisioni, anche qui si è verificata una frattura. Abbiamo per esempio il movimento Azione più Europa che dice che Celani ha fatto bene a dimettersi, mentre altri, come il Partito Democratico, insomma esprime il suo rammarico per quanto è avvenuto. E poi c'è un'altra questione che in questi giorni si sta dirimendo, è quella della definizione del nuovo vertice di Aset, più che un puzzle è un rebus, intitola oggi il giornale. Sembra che si siano definite le scelte per far parte di questo direttivo effettuate dal Comune di Fano che ha confermato sostanzialmente la candidatura del Presidente Reginelli e anche del Vice Presidente Vincenzo Galazzo, più l'inserimento di un consigliere quale Maria Grazia Mosciatti, che era ex dirigente comunale nel settore della cultura, e Mattia De Beneditti, ex consigliere comunale. Resta da scegliere invece i rappresentanti dei comuni dell'entroterra, che fanno parte ugualmente della base sociale, seppur minoritari, dell'azienda dei servizi. Giriamo pagina e vediamo che oggi c'è un importante appuntamento alle ore 18 nel Teatro della Fortuna. Si parlerà del nuovo tracciato degli interquartieri, per cui tutti coloro che sono interessati per la definizione di questo progetto potranno così apprendere le scelte definitive dell'amministrazione comunale per la realizzazione del tratto finale degli interquartieri, ovvero della variante di Gimarra. È un tratto che ha destato consensi e dissensi. Ci sono state proteste degli ambientalisti per l'impatto ambientale che questa nuova infrastruttura eserciterebbe sulla collina di Gimarra, ma d'altra parte ci sono i benefici che il traffico assumerebbe grazie all'alternativa proposta al trascorrere dei camion, delle auto nei pressi del centro storico sulla statale 16. E a proposito di infrastrutture, vediamo che l'altra sera si è inaugurata la nuova illuminazione della pista ciclabile Fano-Fenile, 59 punti luce a LED, quindi con un risparmio significativo di energia elettrica, che si sono accesi, mentre circa 200 ciclisti, con in testa il sindaco Massimo Seri e il presidente della regione Paolini, appunto guidavano questo pattuglione che ha percorso la pista da metà a strada fino a Fenile. La benedizione l'ha data il parroco di Fenile, Don Giuseppe Tintori. Ed è una bella realizzazione questa, perché questo tratto consentirà a Fenile praticamente di raggiungere il mare attraverso la pista ciclabile della Zilla. Passiamo alle altre località, vediamo Fossombrone, sorgenti, autobotti e pozzi, Ato è il mistero dei numeri. Ebbene l'Ato in questo caso non avrebbe a disposizione i dati delle sorgenti monitorate. E qui c'è tutta una specie di percorso tortuoso che ha ottenuto la richiesta di questi dati, che non sarebbero stati dati, poi sono stati dati, insomma è un articolo da leggere, difficile da riassumere, comunque che evidenzia come è importante conoscere bene la situazione del territorio in merito alla siccità per poi prendere i giusti provvedimenti. Vediamo ancora sulla Val Cesano, abbiamo annunciato questo episodio di cronaca, rogo nella tenuta agricola, distrutto un bosco di olivi. Le fiamme ci sono originate tra Cerasa e Piagge ed è intervenuto l'elicottero della protezione civile. I vigili del fuoco di Fano e di Pesaro sono stati impegnati dalle 15 di mercoledì pomeriggio fino alle 2 di notte per domare le fiamme scaturite in una tenuta agricola appunto tra le frazioni di Cerasa nel comune di San Costanzo e di Piagge nel comune di terre roveresche. È stato un impegno piuttosto gravoso che si è dilungato molto, purtroppo la siccità anche nel nostro territorio determina questi incidenti. Ma parliamo di qualcosa di più leggero. Ebbene, anzi, non so se la polenta nello stomaco sia leggera oppure pesantuccia. Fatto sta che è molto buona e quindi a San Costanzo c'è un gran fermento perché si ritorna alla Sagra della Polenta. Venerdì, sabato e domenica, tre giorni per i buon gustai, tre giorni di festa nella piazza del Paese dove verranno inalberati i caldai, dove ci saranno appunto queste belle tavolate di questa pastoia gialla molto molto gustosa con il sugo. Ebbene, è la polenta di San Costanzo. Sapete com'è perché molti di voi l'avrete senz'altro assaggiata nei tempi passati. E ora ritorna con tutto il suo clima di festa. A Senigallia. A Senigallia passeggiate proibite sull'isolotto del Misa. Ebbene, a Senigallia non si finisce mai di derogare dalle norme in vigore. Alcuni giovani sono stati sorpresi a calarsi dalle banchine. L'ufficio locale marittimo ha annunciato provvedimenti in arrivo alle transenne vicino alle scalette per evitare questi passaggi che sono proibiti. E qui parliamo anche di un lutto. Perché non gliel'ha fatta la donna che è stata oggetto di un... che è stato coinvolta in un incidente stradale che si è verificato pochi giorni fa appunto nei pressi di Fabriano. Muore dopo lo scontro con il camion. Fabriano piange. L'ex cuoca Gabriella faceva il suo lavoro nelle mese scolastiche. Si tratta di Gabriella Lazzari, 62 anni. Era da poco in pensione dopo tanti anni passati nelle scuole. Fatale l'incidente di Genga. Poche settimane fa aveva festeggiato il traguardo della pensione. Mercoledì mattina è rimasta coinvolta nel terribile incidente lungo la provinciale 22 di Frassassi contro un mezzo pesante all'altezza della località di Osteria Coliponi di Genga. Purtroppo vedete come l'auto era ridotta da un ammasso di rovine. Ed ora qualche notizia per quanto riguarda Pesaro. A Pesaro abbiamo un lungo articolo che riguarda il mercato delle erbe. Ve l'ho anticipato prima con il sunto a prima pagina. Concessioni a tempo per un futuro incerto. Gli ambulanti nel chiostro di San Domenico ormai sono come una piccola riserva indiana. Hanno avuto il rinnovo fino a giugno 2023. Quindi ci sono poche prospettive per il futuro. Nessuno dice nulla. Devono farsi dei lavori di riqualificazione per cui il comune di Pesaro ha a disposizione 7 milioni di euro. Una cifra importante che dovrebbe riqualificare tutto il mercato. Ma nel momento in cui si fanno i lavori dove andranno gli ambulanti? Sarà era il main partner della capitale della cultura tra comune e gruppo. Multiservizi una serie di progetti da realizzare. Importante questo apporto oneroso, un apporto contributivo da parte dell'azienda Servizi. Il gruppo ERA che sostiene tutte le iniziative che faranno di Pesaro la capitale della cultura a livello nazionale. Ebbene vediamo che ieri questo accordo è stato presentato dal sindaco Matteo Ricci e dal presidente esecutivo del gruppo Tommaso Tommasi di Vignano. È stata questa l'occasione per rilanciare la sinergia tra il comune e il gruppo Romagnolo. Una collaborazione già iniziata con l'Ulisse Fest ed ora insomma continua con tutte le iniziative dedicate alla cultura. Tutti i maturi in sei istituti su sette e nei licei di Pesaro svettano le quote 100. Il dirigente Rossini prove tarate su ciò che si era studiato e questo ha permesso a molti ragazzi che hanno condotto un buon anno scolastico di ottenere anche dei buoni risultati a livello degli esami. Lisotti alcune e lacune beh si possono compensare ha dichiarato Roberto Lisotti. Un vero in play dunque per il liceo Mamiani ma anche per l'artistico Mengaroni, lo scientifico Marconi, il tecnico Bramante Genga e il professionale Benelli. Il Agrario Cecchi ha sfiorato il 98,56%, ha sfiorato il top, il 100% che ha conquistato invece gli altri istituti. Particolarmente alta la percentuale degli studenti che hanno raggiunto l'ambito 100 soprattutto nei licei. Quindi il massimo delle votazioni. Bravi, bravi questi ragazzi. Qua invece abbiamo la benemerenza che è stata assegnata ad Umberto Gnudi, il ex primario del pronto soccorso del San Salvatore. Gnudi condivide il premio con la sua squadra. Insieme abbiamo fatto una cosa incredibile, ha dichiarato. E sono stati quindi coinvolti in questa premiazione anche lo staff di Umberto Gnudi. Chi sono? Sono Tiziana Marte, OSS, Cristina Casacu, operatore Dusman del pronto soccorso, Giovanni Polidori, medico del pronto soccorso, Marianna Lucchena, infermiera, Marco Spinaci, 118, Lucia Zini, infermiera rianimazione. Tutti hanno dato l'anima, ha detto il dottore. Ed ora diamo un'occhiata invece al resto del Carlino. Il resto del Carlino sulla prima pagina evidenzia l'attitubanza di Matteo Ricci. Io a Roma presto decido, ha dichiarato il sindaco di Pesaro, che è tentato questa volta a fare la scalata al Parlamento. Vedremo che cosa accadrà. Ma lo vedremo anche con questo articolo all'interno del giornale. Ricci riapre all'ipotesi della sua candidatura. Regole da chiarire. Decido in pochi giorni. Le elezioni anticipate cambiano le norme dell'eleggibilità. Prima bisognava che i sindaci si dimettessero 120 giorni prima delle elezioni. Adesso che la legislatura si è interrotta ancora, mentre non ha ancora completato il suo corso normale, ci sono nuove norme e quindi Ricci potrebbe partecipare alle prossime elezioni. Però ci sono ancora dei particolari da chiarire e quindi Ricci si è riservato alcuni giorni per decidere. Intanto si mobilitano anche gli assessori regionali. Carloni, Castelli e Latini sono i nomi più caldi per tentare la corsa verso Roma, mentre il Corriere Adriatico ha inserito anche Saltamartini. Insomma, il resto del Carlino invece non ne fa menzione. E' morto Marcello Secchiaroli. Una perdita importante. E' stato un assessore, ma prima di tutto diciamo che è stato un uomo buono. E questa sua peculiarità ne ha fatto anche un buon assessore. E' morto Marcello Secchiaroli, sedeva l'assessore dei deboli. Aveva 75 anni, dal 1985 al 1995 è stato in comune a Pesaro, poi è stato in regione sia come consigliere che come assessore nella giunta d'Ambrosio. Dalla pallacanestro, in cui si era evidenziato, all'impegno sociale. Era espressione del mondo cattolico. Domani mattina ci sarà il funerale. Intanto un rosario sarà citato questa sera alle 18 nella chiesa di Loreto, dove appunto sabato alle ore 10 si terranno le esequie. Non so se voglio fare ancora questo lavoro. Ha dichiarato Gnudi nel momento in cui ha ricevuto la benemerenza dal sindaco Matteo Ricci. Lo vediamo qui in questa fotografia con tutto il suo staff. Dicevo, mentre qua abbiamo Paolini e Ricci che hanno appunto, erano presenti alla cerimonia, l'ex primario riceve la benemerenza del comune. Ho il contratto all'ospedale di Riccione, ma non l'ho ancora firmato. Ancora fa male a Gnudi tutto quello che ha dovuto sopportare, perché aveva avuto l'ardire di dire le cose come stavano, in maniera molto molto chiara. Qui invece abbiamo le anticipazioni per il programma della stagione di prosa del comune di Pesaro. Teatro svelata alla stagione di prosa, capitale della cultura, era in campo. Poi abbiamo visto come era, sarà il main, come si dice, il main sponsor di tutta la stagione, ma ci sono anche degli spettacoli importanti. Abbiamo per esempio Vanezza Incontrada, che sarà protagonista di Una volta nella vita. E poi Stefano Accorsi, I Nasul, Gioia, Furia, Fede, I Eterno Amor, Sergio Muniz, che reciterà in Cuori Scatenati, Silvio Orlando, un grande attore nella vita davanti a sé. E in questo articolo abbiamo un po' tutto il cartellone che è stato pubblicato, esposto, presentato nella giornata di ieri. Un papà disperato si ferisce da solo paura. L'uomo si era abbaricato in una struttura di accoglienza in via Valentini a Pesaro. Chiedeva di rivedere moglie e figli, i vicini terrorizzati. È stato protagonista di gesti inconsulti, ha iniziato a rompere i vetri. Sul posto sono intervenuti agenti e carabinieri. Poi è stato il ricovero. Vediamo ancora l'articolo che si riferisce a Fano per quanto riguarda la decisione di Pietro Celani, il dirigente che ha comunicato le sue dimissioni. In questo articolo di fondopagina invece vediamo le diverse reazioni degli esponenti politici. Vediamo Minardi, vediamo Busca, vediamo il segretario del PD della Dora e vediamo Cora Fattori, diverse posizioni per quanto sta accadendo. E poi ancora una denuncia, polvere e buche, il foro boario è un inferno, la rabbia dei residenti costretti a tenere le finestre chiuse d'estate. Sapete come è gravoso questo impedimento perché insomma non si respira fuori, pensate se si respira dentro. Fano Fenile, la ciclabile finalmente si illumina. Dopo mesi d'attesa il Comune ha inaugurato il nuovo impianto di luci e la pedalata notturna ha coinvolto circa 200 persone. Caso Terna in regione, macchinario in arrivo. Fervono gli incontri per quanto riguarda le problematiche di Carrara. vedremo la settimana prossima gli sviluppi in un nuovo incontro con la frazione da parte dei tecnici di Terna. E questa era l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta, vi dà appuntamento domani alle 7 per le notizie del giorno. A occhio alla notizia di questa sera alle ore 20.30. Questo è tutto, a risentirci.